È nato per telefonare, poi è diventato sveglia, videocamera, comunità di persone e anche personal trainer. Da oggi lo smartphone diventa il mio portafoglio digitale. Con YouPass BNL entro nell'era del mobile payment. Posso inviare e ricevere denaro in tempo reale con YouPass Transfer BNL e grazie a GIFI. Prendo il mio smartphone, seleziono il contatto della rubrica, inserisco l'importo e confermo l'operazione. Non serve nemmeno conoscere l'Iban, basta solo il numero di telefono. E per trasferimenti inferiori a 25 euro si fa tutto con un tap. Mi muovo veloce nella città, scelgo quello che mi serve, scopro quello che mi piace e lo acquisto in pochi secondi. Come? Prendo il mio smartphone, seleziono l'app YouPass BNL, scelgo la carta con cui pagare e avvicino lo smartphone al post contactless. Per importi inferiori a 25 euro non devo nemmeno digitare il PIN. Tutto questo grazie a YouPass Proximity BNL. Anche attivare il servizio è semplice, veloce e sicuro. Basta sottoscrivere online il contratto, scaricare l'app YouPass BNL e scegliere le carte da memorizzare sulla tua SIM NFC. È possibile virtualizzare tutte le carte di pagamento Mastercard di BNL e gestire YouPass Wallet BNL per tutti gli acquisti online in sicurezza. Mobile Payment BNL YouPass. L'evoluzione dello smartphone. La rivoluzione dei pagamenti. BNL YouPass Proximity BNL.